Elezioni regionali 2005. Si vota in Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. E inoltre per le amministrative in 10 province e 956 comuni. I seggi saranno aperti domenica 3 aprile dalle 8 alle 22 e lunedì 4 aprile dalle 7 alle 15. Per votare è necessario presentare un documento di identità e la tessera elettorale già distribuita in occasione delle precedenti elezioni. Chi l'avesse smarrita o non l'avesse mai ricevuta può richiederla all'ufficio elettorale del comune in cui è iscritto. Elezioni regionali 2005. Buon voto a tutti.